Palestra e gambe affusolate. Buongiorno ragazze, qua è Christian Bocceda, punto di riferimento italiano per l'eliminazione degli anestetismi e le imperfezioni dal corpo femminile. Io e la mia azienda portiamo quotidianamente centinaia di donne a raggiungere il fisico dei loro sogni. Allora, spesso c'è questa falsa credenza che la palestra non va d'accordo con l'ottenimento di gambe affusolate, snelle, magre e longiline. Da dove nasce un po' questa credenza? Perché solitamente anche molte donne che poi entrano nei nostri percorsi di coaching ci riferiscono che magari si sono iscritte in palestra in passato, si sono rivolte anche a uno degli istruttori, dei personal trainer che trovavano lì disponibili, chiedendo in modo molto specifico che il loro obiettivo era quello di ottenere delle gambe snelle, di rassodare, di dimagrire. Questi personal trainer, purtroppo credo per mancanza di conoscenza loro, mettevano queste donne e queste ragazze a fare i soliti esercizi, squat su squat, affondi su affondi, comunque degli allenamenti che non andavano bene per la corporatura della donna in questione. Infatti quello che ottenevano dopo una o due settimane di questi allenamenti erano delle gambe che erano diventate il doppio rispetto a quando avevano iniziato. Quindi cosa pensava la donna in questione? Mi sono iscritte in palestra, la palestra mi fa venire le gambe grosse. Attenzione, non è assolutamente così. Il problema è di che cosa vai a fare in palestra, perché la palestra può darci a disposizione degli strumenti, dei macchinari, dei pesi anche, dell'attrezzatura che possiamo sfruttare assolutamente in modo proficuo, ma d'altro canto come si può sfruttare in modo proficuo anche un allenamento casalingo? Il problema è di che cosa vai a fare sia a casa che in palestra, non è il problema del luogo in sé. Se segui una programmazione sbagliata per la tua corporatura, se segui comunque un piano copia e incolla che ti rifilano solitamente da istruttori personal training che trovi in palestra, è normale che non andrai a raggiungere il tuo obiettivo di ottenere delle gambe snelle e affusolate, anzi in molti casi otterrai proprio l'effetto opposto perché andrai a creare un'infiammazione costante e cronica che crea una maggior ritenzione idrica e di conseguenza crea gonfiore alle cosce. E soprattutto anche perché credo che non ti abbiano mai fatto includere degli esercizi decongestionanti, degli esercizi per il miglioramento del microcircolo. Questi sono assolutamente fondamentali soprattutto per una donna che presenta la fisicità ginoide, quindi il fisico apera e presenta molta più massa grassa in accumulo sulle gambe e solitamente presenta anche delle problematiche circolatorie. Soprattutto in quest'ultimo caso se iniziate palestra, fate esercizi sbagliati, vi uccidete di squat su squat e comunque seguite una programmazione non personalizzata da una persona competente, andate a peggiorare decisamente la situazione, potete peggiorare decisamente anche l'aspetto circolatorio, far comparire dei capillari evidenti, delle vene varicose che sul lungo periodo possono trasformarsi anche in una problematica patologica, quindi fate molta attenzione. Allora ripetiamolo, non è il problema del luogo in sé, bisogna seguire la giusta programmazione col fine di andare a snellire le gambe, di andare a migliorare l'aspetto della ritenzione, della circolazione e ottenere una figura magra, tonica, slanciata e longilinea. Come potete vedere benissimo dei tantissimi risultati che ottengono quotidianamente le nostre clienti già nel giro delle prime 6-8 settimane. Quindi ti prego ferma subito questo falso mito che la palestra fa diventare le gambe grosse, è quello che fai in palestra che determina se ingrosserai o se rassoderai le gambe. Detto questo se vuoi ottenere le gambe asnelle e affusolate, vuoi trasformare il tuo fisico in modo definitivo, puoi mandarci un messaggio in privato qua su Instagram con scritto info, in alternativa se stai guardando questo video su YouTube puoi cliccare il link che trovi qua giù in descrizione e andare sul nostro sito. Qualsiasi informazione ulteriore puoi chiamarci tutti i giorni in ufficio al numero verde gratuito 800 345 999.